Può pungere Attenzione a non scivolare sulle tue budella Potresti cadere e farti male Mi picchierò come se fossero gli straordinari Questa è giustizia, Sprite Sto a me Hai preso un po' di peso È il momento di Craig, volevo dire Super Craig Mega pugno Hai appena attaccato un guardiano dei prati Sveglia Super Craig, buttati nella mischia Fate casini col procione, ne rispondete ai suoi amici I tuoi attacchi aumentano la mia ira Sono nostri Di a tutti che ti sei tagliato mentre ti depilavi Magari fossi un vero polizio Fingi che ti freghi qualcosa Certo, va bene Capitan Diabete è tornato in azione Grande Combatti come se fosse l'ultima battaglia Sono pronto Non male Super Craig Ma non restare l'impalato Solo se cercherai di non fare il cazzone A fare fatto Tu sei che sai incassare Diabete Grazie per averlo notato Ti sei appena fatto un nuovo e peloso nemico Questo è per Scramble, bastardi Non fare cazzà Prendetelo Danni fisici, i miei preferiti Ti farò non letalmente un culo Eccomi Ho dimenticato la crema antisettica per il nano Ok, ci vediamo Non potete nulla contro Capitan Diabete Non potete nulla contro Capitan Diabete Smettila di cazzeggiare Già, me l'ho aspettato Patate bollente Ehi, è divertente Hai c'era secondi per farlo Botto Amico, tu spacchi i culi È ora di andare, Fettoban Ah, e piantala Attacca Non si mette bene Uno, due, diabete Rappia diabetica Il diabete vuole altre vittime Oh, tocca a me Oh no Sei emofiliaco? Scopriamolo Fate spazio alla ragione Non mi lasci scelta Se non prendere personali misure di protezione Ero il settimo più bravo nella mia classe online Sei finito Oh Ho fatto pratica allo specchio Puoi farcela pedoman Fermo, oppure chiamerò qualcuno con l'autorità per sparare Il procione e i suoi amici sconfiggeranno il male Aiuto Polizia Ecco, ci siamo Prendi questo Getta a terra tutte le armi che hai addosso Intruso Sento bene a romperli in giocato Il procione non durerà a lungo così Ben fatto, pedoman Largo a Capitano Diabete Non sono responsabile delle mie azioni Mi sembra che sono solo io a tirare avanti la baracca qui Ehi, devo pagarla questa uniforme Buonanotte Ora le prenderete Ecco il vero potere di Diabete Un bel colpo Ma Diabete preparrà Vi sconfiggerò Vi sconfiggerò Fallo di nuovo e vedrai Zucco, dammi la forza Capitano Zulpante Capitano Zulpante Non mi picchi Mi vengono i libidi Il dovere chiama Mi ricorda la rivolta della mensa del 14 Foglio a vedere chi comanda Foglio a vedere chi comanda Oh, tocca a me Scusate, ero distratto Scusate, ero distratto Gaena è finita, i miei moradì mandano i loro saluti. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Rispondi al telefono, usa il dispositivo di hackeraggio e disattiva il sistema. Pronto, sono Jeff della Wolf Home Security. È tutto a posto? Pronto, mi scusi, vivo qui e non ricordo il codice che disattiva l'allarme. Ok, ok signore, può dirmi la sua password di sicurezza? Va tutto bene. Mi sente? Aspetti solo un momento. Sì, nessun problema, ce l'ho qui, un attimo. Diamo un'occhiata. Dannazzi, ho sbagliato cassetto. Un attimo, per favore. Faccia pure. Va tutto bene? Aspetti solo un momento. Ha scritto la password su un quaderno o qualcosa del genere? Sì, sì, deve essere qualcosa. Vediamo, mi faccia controllare questo cassetto. Mi sa che ho bisogno degli occhiali. Aspetti. Mi sente? Ecco il secondo nome. Può provare ecco quello. Ok, signore, facciamo così. Guardo il suo profilo e le fornisco una nuova password. Attendo a qualche istante... Non farti ingannare dai suoi tentativi da gentiluomo. È un trucco vecchio come il mondo. Ricordi le cartelline a scuola? Certo, ricordo. Oh, che bello! Sì, lo ricordo! Riccardo, è interessante la scuola durante le partite. Sì, 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 ricordo. Era fantastico. Innanzitutto. Poi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tu chi diavolo sei? Non puoi stare qui. Carica! Vai, vai, vai! Ho un sistema di sicurezza. Dove cazzo sono gli sbirri? Fatene per favore. Peccatemi il mio swing semiprofessionistico, intrusi. Aspetta! Ottimo lavoro. Stai facendo grandi progressi. Capisci esattamente cosa stiamo facendo e lo stai facendo con noi. Ci vediamo alla stazione di polizia. Ho qualcosa per te. Passiamo. Grazie a tutti. Aspetta, quello è il vigilante scoreggiante. Aspetta, quello è il vigilante scoreggiante. Chi è che scapperebbe mai da noi? Qualche bambinetto, tutto per me. A dopo, piccoletto. Ti aspetto. Dovellino, dove si va? Gamba in spaspalla! Tieni! Quando lo dai a Twig, assicurate che sappia che quando abbandoni qualcuno, non sei più tu a fare le regole. Buongiorno, benvenuto al caffè Twig. Che cosa ti posso offrire oggi? Ah, finalmente si è deciso a ragionare! Bene! Ecco il suo portatile! Oh, ciao! Sei il novellino, giusto? Senti, mi rendo conto che ce la stai mettendo tutta per far riavvicinare mio figlio e suo amichetto. Beh, lo apprezzo molto. Avere un figlio gay è ottimo per gli affari. Credo che... abbiamo solo bisogno di un po' di terapia relazionale. Potresti dare questo a Craig? Forse insieme possiamo aiutarli, eh? Dov'è? Terapia? Twig vuole faccia terapia con lui? No, grazie! Degli che non vado in terapia con lui se non vieni tu! Mi serve il supporto! Buongiorno, benvenuto al caffè Twig. Che cosa ti posso offrire oggi? E cos'è? Terapia relazionale? Craig! Mi prendi per il culo! Sì, lo farò! Se viene anche tu! A quanto pare riesci a farlo ragionare! È fantastico da parte tua aiutare questi ragazzi! Sì, lo farò! Sono il più ve... veloce della città! Diretti vincono! Ci si vede! Dopo aver preso il vigilante, fetta nel deposito prove! Vai pure! Ottimo lavoro con quel boss! Vorrei che ce ne fossero centinaia come te, delle forze dell'ordine! Tutto da volta per le participe? Tutto da qua! Tutto da rinacosticato! Tutto da piazz?? Tutto da pronti sopra! Quindi, ricordate! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto il divertimento! Petoman, devo dirtelo. Sono molto contento dei tuoi progressi. Torna alla base. Ho una sorpresa per te. Passo e foti. Grazie a tutti. Sono il più ve... veloce della città! Avrei potuto farmi 7 milioni di selfie a quest'ora! Danny! Pasticcio! Rovinato! Franchising! Amici! Netflix! Mille dollari! Oh, ciao piccolo! Per caso hai perso la corona! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Petoman, siediti. Voglio parlare da solo con Petoman. Certo, andiamo a Faspas. Ti seguo, mosquito. Petoman, volevo solo dirti che abbiamo deciso che avrai la tua serie Netflix personale dopo la miniserie Fox su Faspas e il terzo film del procione e i suoi amici. Congratulazioni. Ok, torna a raggiungere i tuoi obiettivi. Volevo darti questa notizia. Beh, che altro vuoi? Ti ho già permesso di fare un personaggio a doppia classe. Oh no, 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 niente personaggio che ha tre classi. E dai. No, non farmi gli occhi da cane bastonato. Nessuno può fare un personaggio a tre. Beh, si deve avere diritto a tutta la compassione del mondo perché tuo papà si scopa tua mamma, non è vero? Mi dispiace. Non volevo divangarlo. D'accordo, d'accordo. Se dovesse aggiungere un'altra classe, quale sarebbe? Assassino. Dottato di gadget. Medium. Cyborg. Blaster. Potere di velocità. Dottato di gadget come Iron Man, ma meno fico. Blaster. Un blaster con poteri tipo quelli dei Ciclop. Ok, ma se vuoi avere tre classi, cambiamo la tua storia. È davvero stupida. Torniamo di nuovo alla tua infanzia. Ancora quella fatidica notte. Non riesci a dormire. In realtà perché hai visto strane luci nel cielo. Ti avvicini allo specchio. Nello specchio vedi qualcuno che forse non è di questo mondo. E poi li senti. Rumori alieni dal corridoio. Non riesci a dormire. Belli realità.